buongiorno sono franco ottovito come ti chiami scusa per la voce ma sono senza voce perché fa il tandem perché allora c'è un motivo quindi sei responsabile ti hanno spiegato tutto ti ricordi ok allora adesso andiamo in aereo ci divertiamo ricordati guarda davanti che ci sono io ridi fai quello che vuoi va bene benvenuto al campo di reggio emilia ci vediamo ciao bravo sopporto no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti